L'autostrada è sotto di noi. I rinforzi di Adir tenderanno un agguato a lui. Siamo bersagli facili per i russi qua fuori. Sì, abbiamo poco tempo. Saremo braccati da Barcov. Ha perso il controllo. Tornerà a riprendersi. Venteseron! Andiamo. Intercettiamo il lupo a mezzo. Prima della guerra, qui c'erano famiglie. Si rideva. Ridere è la miglior medicina. Fammi ridere. Sai cosa fa la CIA quando va a dormire? Cosa? Rimbocca le coperture. Non male. Un comico la direbbe meglio. Ho sentito di peggio. Tienile a portata di mano. Agli ordini. Adir si è sismato sul tetto. Mio padre chiamava Adir Shabal, Leoncino. Che gli è successo? Morto in battaglia. Qua è il quattro al chassa, Admin? Se è da te. Abberna, Shabassir. Alex, di qua. Adir ci sta aspettando. Gli ho detto di portare tutto quello che ha. Alex, guarda qui. Calibro 338 Lapua. Perforano da 600 metri. L'ho assemblato io. Vorrei che lo usassi tu. Roba grossa. Proteggilo a costo della vita. Lui ricambierà il favore. Grazie, Adir. Perfetto a questa distanza. Ti indico i bersagli, Alex. Ora siamo fratelli. Rendimi fiero, Alex. Usa il mirino. Dobbiamo metterci all'overa. Cerca il riflesso vicino all'autostrada. Lo vedo. Ali, raggiungi gli altri. Sì, comandante. Seguilo e vedrai la mia squadra vicino alla strada. Sì, li vedo. Ci supporteranno appena attaccheremo il convoglio di Alcatala. Aya, c'è il mio avviso. E tu, Juani? Usa le tacche verticali come riferimento. Ogni tacca a 200 metri. Il bersaglio è a 400 metri. Punta due tacche più in alto. Mira due tacche sopra la tannica. Mancato. Non lasciarti intimorire, Alex. Centro! Che spettacolo, Alex. Mio fratello è il tuo più grande fan. Proviamo a cambiare bersaglio in distanza. C'è una casa blu là in fondo. Riesci a vederla? Visuale sulla casa blu. C'è un frutto sul frigorifero. Distanza 600 metri. Spara appena pronto. Calibra a sinistra. Più in alto. Calibra a sinistra. Più in alto. Calibra a sinistra. Più in alto. Colpito. Contro la frutta non lo batte nessuno. Ho sentito. Yahai, Wen. Attenzione, ragazzi. Ti sei esercitato abbastanza. Usa l'ambiente a tuo vantaggio. Bandiere per la direzione del vento, punti di riferimento per la distanza. Ho capito. Bene. Ora tieni d'occhio l'autostrada. non dovrebbe mancare molto. Nient'altro che vento. Vedo qualcosa. Alla pompa di petrolio. Solo dei cani randaggi. Controlla la strada. Il lupo arriverà a momenti. Un veicolo in avvicinamento da Est. Ricevuto. Non attaccate. Hanno visto un veicolo. Lato destro. Forse il lupo o i suoi uomini. Finalmente abbiamo un po' di compagnia. Ma non sembra il lupo. Sono ricognitori del lupo. Non sparare. Aspetta l'occasione giusta. Ali, riesci a vederli? Salgono sul tetto. Alex, guarda sul tetto. Due, sul tetto. Sono in cima, la casa gialla. Sì, li vedo. Quattrocento metri. Spara appena pronto. Un bel colpo. Ancora uno. Bel colpo. Due ricognitori del lupo eliminati. Ali, hai campo libero. Adire è pieno di risorse. Ha ordinato di piazzare una trappola per gli uomini del lupo. Alex, copri chi prepara il campo. Uccidere il lupo non ci garantisce il gas rubato. Vero. Che succede se non lo trovi? Devo trovarlo. Aspetta l'occasione giusta. Gli uomini del lupo dovranno spostare il camion per passare. Aspetta che si avvicinino, poi fallo esplodere. Cugina, vedo il convoglio a Elt. Perfetto, ci siamo. Fatevi valere, cugini. Arrivano i soldati del lupo, Alex, lato destro dell'autostrada. I veicoli di Alcatara. Visto, non sparate, facciamoli avvicinare. Posso attaccare? No, lasciali avvicinare ancora. Più vicini, forza, non siate timidi. Lo vedono, si avvicinano al camion. Adir. Li vedo. Preparati, Alex. Alex, fai esplodere il camion. Fallo. Adesso! Tuo! Sono a destra del bus. Becco! A sinistra del bus! Occhio alle finestre! Mel colpo, Alex. A sinistra del bus! Mel colpo! Alcatara su! Il lupo ha mandato rinforzi! Il lupo ha mandato rinforzi! Adir, rivina la tua squadra! Dobbiamo rinforzi! Dobbiamo restare! Fallo! Ali, rinforzata! Vattene subito! Spara ai motori! Fermali! Alex, colpisci per voi! Si, questo è stato un po' di desk. No, il sippio è... Quindi... Ma rumore. Vattene. 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 Grazie a tutti. 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 Alex, ci sono altri mortaisti di Alcatala. Falli fuori tutti. Grazie a tutti. Nessun contatto. Tu cosa vedi? 600 metri. Movimenti vicino alla Casa Blu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spara, Alex, spara! Si avvicini da troppo! Camion bomba, sinistra! Sinistra, sinistra, sinistra! Alex, ferma quel camion! Ancora! Il camion! colpisci subito, colpisci subito il camion! colpisci subito, colpisci subito! Per poco! Per poco! Per poco! Alex! Alex, vai al bunker e riformisci di Alcatala tornerà con più forze di prima! Altri esplosivi, Adir! Non sono mai troppi! Come prima! Appena si avvicinano, falli saltare! Meglio stare a distanza! Alex! Hai una chiamata via radio dal Capitano Price! Dice che è oggetto! Prego! Ecco 3-1 a capo! Alex! Il lupo ha lasciato la città! Dirige verso di voi! I russi li sono appena dietro! Capo, contatto con truppe! State bassi! Non devo vederli! Ricevuto! Arriviamo! Quei colpi venivano dall'autostrada! Beccalo! Ammazzera tutti! Alex! Trova quel cecchino! Il suo mirino riflette la ricce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! Il suo mirino riflette la luce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! Il suo mirino riflette la luce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! Il suo mirino riflette la luce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! Il suo mirino riflette la luce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! I mirini telescopici riflettono la luce! Cerca il bagliore! Eccolo! Il vento è cambiato! Il vento è più forte! Devi aggiustare la mira! Quattro tacche a sinistra! Riacquisisco! Si sta muovendo! Il suo mirino riflette la luce del sole! Cerca il bagliore! Occhio al riflesso del suo mirino! I mirini telescopici riflettono la luce! Si sta muovendo! Si sta muovendo! Si sta muovendo! Si sta muovendo! Peccato! Bel colpo, Alex! Alcatala si riunisce dall'altro lato della strada! Forse è lui! Sono 600 metri, Alex! Colpisci! L'esercito di Barcov arriverà presto! Alex! Trova il modo di fermarli! Trova il modo di fermarli! Trova il modo di fermarli! Punta le gomme! Avanti così, Alex! Si! Occhio! Tornare! Pornare! 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 Grazie. 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 Ho altra potenza di fuoco nel camion. Alex, seguimi. Vai al tuo camion, Alex. Ho il camion pieno di esplosivi. Esplosivi molto potenti. È ora di usarli. Apri il portellone. Sto di guardia. Apri, Alex. Il gas non sono. Sì! E adesso lo rispettiamo dritto in... Le basta di assicarsi, che non è il bunker! Oddio! Quello cos'è? È l'assaggio della loro medicina. Cosa? Il gas, che loro lo usano, anche noi possiamo. C'è il trafarello. Qua di più. flare per la suaistia. La loro saguici lo steve. Qua di più. Per rischio in alto. Anche era этих fortale. non toccarmi come hai potuto non avevamo scelta fara devi fartene una ragione alex ascolta ho rubato io i gassai russi per noi solo per il nostro bene dilua fara diglielo alex grazie